ciao a tutti oggi prepareremo i biscotti tipo gocciole finger il tempo di preparazione della ricetta è di due ore circa ingredienti sono cioccolato bianco zucchero burro farina di tipo doppio zero amido di mais uovo e tuorlo caca amaro bicarbonato gocce di cioccolato fondente e il cioccolato fondente fuso che ci servirà in seguito andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero ed il cioccolato bianco ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il burro ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 3 aggiungere il cacao amaro e l'uovo e il tuorlo ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 3 aggiungere la farina l'amido l'amido e il bicarbonato ed azionare il bimbi in modalità spiga per due minuti aggiungere le gocce di cioccolato fondente ed azionare il bimbi per 20 secondi antiorario velocità 1 formare un panetto avvolgere nella pellicola trasparente riporre in frigo per almeno un'ora trascorso il tempo abbiamo ripreso la frolla dal frigo adesso prenderemo circa 8 10 grammi di frolla e formeremo un bastoncino di circa 7 centimetri posizionare su una teglia rivestita con carta da forno riporre in frigo per almeno 10 minuti nel frattempo per riscaldare il forno a 180 gradi cuocere per almeno 10-13 minuti lasciare raffreddare completamente nel frattempo sciogliere il cioccolato fondente immergere la base dei biscotti nel cioccolato fondente e posizionarli su una teglia rivestita con carta da forno e lasciare raffreddare completamente biscotti tipo gocciole finger grazie e alla prossima ricetta grazie 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 grazie